Vorremmo chiedere a tutti i giornalisti e a tutte le televisioni di rispettare il nostro dolore di non entrare in chiesa per i funerali di Loris. Per favore lasciateci soli. L'appello quasi disperato è di Davide Stival, padre giovane travolta da una tragedia spaventosa, impossibile da accettare. Adesso chiede silenzio e lo fa attraverso le colonne del Corriere della Sera. La domanda che poniamo è questione di etica e diritto di cronaca, quale confine nella vicenda? Ne abbiamo parlato col Presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Non c'è una norma fissata dall'Ordine dei giornalisti di non riprendere le sequie di un bambino. C'è sicuramente però un diritto di cronaca che va rispettato nel rispetto, perdonate il bisticcio, delle persone coinvolte, in molte tenendo conto soprattutto del fatto che la vittima è un bambino. Quindi la gazzarra, i fotografi che si scatenano in una sequela di flash, i tricini operatori che disturbano la funzione, sono lontani dall'etica più che dalla deontologia dei giornalisti.